Siamo con Michele Cereghini, sindaco del Comune di Pinzolo. Noi adesso ci troviamo all'interno del campo principale della struttura che ospiterà il Bologna per gli allenamenti. Se vuole darci un po' una descrizione di quello che è appunto la struttura tecnica su cui la squadra si troverà a lavorare quotidianamente. Sì, ormai siamo vicinissimi alla partenza di questo nuovo ritiro. Siamo proprio qua sul campo centrale, il Pinetta, è la struttura principale che ha visto negli ultimi decenni calcare delle squadre importanti, Juve, Inter e Roma. Quest'anno la novità Bologna, siamo molto emozionati perché il primo anno di novità è sempre qualcosa di nuovo ed è emozionato anche per noi. La struttura è subito detto, il campo principale, un campo alla mia destra intermedio fra i due che solitamente è usato per la palestra e per gli allenamenti dei portieri e il campo Cereghini sotto, un altro manto bellissimo, addirittura con l'illuminazione notturna. Quindi sui due campi e sul terreno intermedio la squadra riesce a muoversi e gli allenatori solitamente riescono a fare anche gli allenamenti diversificati fra la struttura e la rosa che hanno a disposizione. Le tribune, sulla mia sinistra la tribuna più importante, i 3.000 posti e questa qua è una piccola tribuna di 300 posti dove alloggiano sostanzialmente le persone dello staff tecnico. Il paese si sta vistendo di rosso e blu proprio, questo è uno degli aspetti coreografici più importanti del nostro paese, del nostro centro abitato. Sono sicuro che è tutto pronto perché ci sia un ritiro veramente, veramente bello sotto l'aspetto tecnico, sotto l'aspetto agonistico ma anche sotto l'aspetto, chiamiamolo turistico, che poi è quello che più interessa a noi dell'amministrazione comunale perché non mi nascondo ma noi ospitiamo le squadre, le grandi squadre perché siano attrattiva per gli ospiti che possano ammirare il nostro bellissimo territorio.